Ciao ragazzi Benvenuti in questo nuovo video Siamo appena appena usciti dal Pescare Show 2022 Manuel fa sempre Saluta Manuel Saluta Babbo Stiamo andando a Chioggia Quindi siamo appena appena partiti Un'oretta e siamo lì E niente, andremo a pescare in teoria le spigole Vedremo un po' come andrà Adesso arriveremo all'albergo e vi faremo vedere tutto Ragazzi mi raccomando come sempre Un po' allice in su, se vi piace il video Iscrivetevi al canale E attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui nostri video Ragazzi, che dire Ci vediamo dopo Siamo arrivati ragazzi Camera presa I due qua si stanno già preparando per la prossima sessione di pesca Adesso andiamo a mangiare E sono circa l'una e mezza di pomeriggio Quindi tra poco saremo a pranzo E poi pescata pomeridiana Chissà cosa faremo Cosa facciamo Manu? Electric fishing? E un po' di pesca spigola Dai proviamo Proviamo Ci vediamo dopo Torniamo Sì, sì. Grazie a tutti. No, ce l'avevo. No, ce l'avevo. No, ce l'avevo. No, ce l'avevo. Ma cazzo, la frizione è troppo aperta. Ma è incaduta. No, no. 20, 18. Ma che mostro è? Fra, ma che mostro è? Non è che ci sono le telecamere. No, che l'avevo in auto. Ma che? In calata, è fra. Bel ghiottone. Da street fishing a Chioggia. È un'isola dei chiozzi. Bello! Bello! Grande! Bellino, bellino! È lanciato fuori? No, pescato fuori. No, pescato fuori. Guarda. Ti mando sotto almeno uno è uscito. Dai, io, Manu! Io, meno male. Primo pesce... Primo pesce. Primo ghiotto? No, primo ghiotto no. Primo ghiotto di Chioggia. Facciamo una prozzina. Vai. Grande, Manu. Ce l'ho anch'io. Più piccolo, però. No, è ancora intero, perché essendo dritta, è fra. Piccolino. È bello, con un bel colore. È più chiaro, ma se c'è una specie di vero. Sì, sì, sicuramente. No, questo era bello. Ancora, o due volte l'ho salvato. No, mi ha spaccato. Ma cos'è che è, fra? Era così. Ma è andato quattro volte. Magari ti mangi ancora. Era bello, eh. Allora, dì, fra, fallo calare sotto qua. Lo fai andare proprio sul... No, 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 no. Così, un po' più... Vabbè, va bene. Ve lo fai andato sul fondo, sul fondo, non andare. Ok, vai. È questo qui. È questo. No, te l'ho detto, fra. Era bello. Era bello. È lo stesso, fra. Mi recupero di la... Rilancia, rinnesca e rilancia. Poi vediamo se mi dà ancora. Ogni volta che faccio i fili, secondo... Ah, eccolo lì. Grande, ma... Quanto siamo oggi? Due. Tene qua, tene qua. Ah, boh, io non li conto. No, era la gareta. Rilizziamo. Rilizziamo la gareta. Parola lì, se dico lì da basso. Aspetta, aspetta, fra. Mi sta guardando ancora. Sento che me l'hai lasciato proprio dove c'è il mio, no? Barola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, sessione di pesca finita, stiamo tornando all'albergo, è andata abbastanza bene, qualche ghiuzzo l'abbiamo preso, il posto merita molto, è stato molto divertente. Abbiamo preso io principalmente con il solito coreano finto della Gulp e lui anche con qualche altra gommina. In particolare della Maria. Ecco. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così è stato mettete un bel like per supportare il canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i nuovi video. Da me e Manu è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.